Benvenuti a tutti in questo nuovo video, oggi parleremo di argomenti che vedete nella slide quindi la differenza tra stakeholders e shareholders parleremo di aziende pubbliche, di cosiddette svendite come le stanno chiamando in questo periodo parleremo di capex, ammortamenti utili, free cash flow, tasso interno di rendimento, valore attuale netto ovviamente dietro a tutto questo discorso ci sarà un filo logico che spero capirete gli argomenti saranno piuttosto semplificati, sicuramente ci sarà qualche imprecisione, a volte voluta, a volte no questa non è una lezione di corporate finance tenuta da Modaran e non farò della politica però secondo me questo è un buon momento per parlare di questi argomenti per capire un po' come si evolverà la situazione team KKR lasciate un bel like di incoraggiamento, più siamo e più ho voglia di portarvi del contenuto di grande qualità allora parliamo degli stakeholders, degli shareholders, gli stakeholders sono i cosiddetti in italiano portatori di interesse come potete vedere dalla slide possono essere i proprietari, ovvero gli azionisti ma non solo i lavoratori, i fornitori, i clienti, la comunità, la società, il governo eccetera eccetera perché è importante parlarne e capire chi sono questi stakeholders perché gli obiettivi che hanno non sono proprio spesso sempre allineati il proprietario cosa vuole? Vuole che il profitto sia il più alto possibile vuole accrescere il valore azionario, vuole un ritorno sul suo investimento il lavoratore cosa vuole? Vuole uno stipendio elevato, vuole il riconoscimento sul posto di lavoro vuole il work life balance e comunque queste cose da un certo senso fanno calare l'utile aziendale perché se tu devi far lavorare poco, pagare tanto, significa che i soldi non vanno all'azionista ma vanno al lavoratore il fornitore cosa vuole? Vuole che paghi tanto e che paghi in tempo quindi c'è un impatto a livello di conto economico, un impatto a livello di rendiconto finanziario il cliente cosa vuole? Vuole un bel servizio pagando poco, questo cosa richiede? Richiede un maggior numero di lavoratori quindi si gonfia nei costi, si guadagna di meno quindi è un danno per i proprietari, devi sempre contemperare tutto questo la comunità, la società, investimenti sostenibili e responsabili vuole che l'azienda porti avanti dei valori per la società e comunque non ne presenti altri come ad esempio il capitalismo ad ogni costo a discapito dell'ambientalismo il governo cosa vuole? Vuole posti di lavoro, vuole che gli elettori siano contenti quindi questa azienda deve assumere, deve comportarsi bene non deve far arrabbiare i creditori magari comunque questi sono esempi un po' banalotti ogni azienda è diversa ovviamente cioè Alliburton, chi investe in un'azienda del genere cosa gliene frega dell'ambiente per dire chi è cliente di uno che produce le sigarette secondo voi può essere interessato alla salute gli bisogna contemperare tutti questi interessi ovviamente poi la proprietà può decidere di ignorare i bisogni per massimizzare qualche obiettivo ad esempio cosa possono decidere? possono decidere, ok offriamo degli stipendi bassissimi come si dice in America few pay peanuts you get monkeys paghi noccioline, vengono delle scimmie e quindi se tu hai dei dipendenti che non sono proprio schillatissimi il problema è che il prodotto o quello che verrà fuori non sarà un prodotto eccelso quindi cosa succede? che tu hai privilegiato un mantenimento basso dei costi nel breve periodo tu comunque hai un prodotto di basso valore oppure specializzato, facilmente replicabile e migliorabile e quindi prono ad essere distrutto in un prossimo futuro poi comunque sorgono sempre i soliti problemi nel senso tu dici faccio un prodotto complessissimo poi non trovo la forza lavoro schillatissima per produrre questa cosa qui e sei di nuovo nei guai le aziende forti tipo Apple, tipo Taiwan Semi hanno tutti i soldi di questo mondo per attarare i talenti le aziende piccole, quelle che vanno maluccio continueranno ad andare molto male perché non possono assumere questi talenti non possono fare il salto di qualità a meno che non cambi la proprietà faccio nuove iniezioni di capitale grado di cambiare le sorti dell'azienda assumere persone competenti e avere un prodotto più evoluto shareholders ovviamente sono gli azionisti quindi la proprietà e qui sorge un altro problema perché ci sono gli azionisti che hanno la maggioranza in assemblea che hanno il controllo che decidono quale sarà il consiglio di amministrazione che quindi decide chi è l'amministratore delegato che porterà avanti i piani industriali e tutte quelle cose lì ci sono gli azionisti di minoranza che non hanno potere ce l'hanno in maniera molto ridotta che comunque vanno tutelati allora cosa può succedere? può succedere che l'azionista di maggioranza voglia una gestione molto aggressiva rischiosa dell'azienda con tantissimi investimenti tantissime scommesse che possono funzionare o meno questo potrebbe riflettersi in alta volatilità sul prezzo azionario mentre l'azionista di minoranza vuole stabilità vuole il dividendo vuole tranquillità ovvio che in una situazione di questo tipo non c'è allineamento di interessi tra le due controparti di logica l'opzione più immediata per l'azionista di minoranza scontento è quello di palesare il dissenso vendendo le azioni uscendo dal capitale magari anche con una perdita e questo sarebbe un grave problema per l'azionista di minoranza e qui arriviamo alle aziende pubbliche metto tra virgolette perché non sono pubbliche ma di fatto la partecipazione più grossa o tra le più grosse è quella dello Stato mediante il ministero del tesoro oppure mediante cassa depositi e prestiti c'è questo conflitto sempre tra proprietà clientela, governo da ciò che ho studiato nel corso di economia delle aziende pubbliche che so che non è un corso molto famoso molto diffuso l'azienda pubblica non dovrebbe fare del profitto o meglio sicuramente non dovrebbe fare del grosso profitto dovrebbe andare quasi in pari non può neanche fare delle perdite enormi come quelle che ha fatto all'Italia soprattutto se si opera in un settore dove non ci può essere la concorrenza ad esempio se c'è solo una ferrovia con l'alta velocità per andare da Milano a Roma la società proprietaria di quella ferrovia lì monopolista non è che uno può arrivare si sveglia e dice ok costruisco una nuova ferrovia ad alta velocità così ci passa il frecciarossa ci passa Italo guadagno dall'uno guadagno dall'altro il mio bel ritorno sul capitale investito il tir generato da questi investimenti mi arricchisco purtroppo ovviamente non funziona così in certi settori in certe condizioni specialmente dove ci sono strutture di mezzo a polli naturali la concorrenza non c'è e invece cosa si tende a fare? si tende a fare la partecipazione dello Stato in un'azienda in un settore ad altissima concorrenza altissima competizione dove non si sarà mai super performanti ad esempio settore bancario settore delle compagnie aeree quei settori lì certi imprenditori sono troppo forti troppo abili troppo avanti non si riuscirà mai a raggiungere il loro livello di prestazione quindi è anche inutile per lo Stato cercare di andare lì cercare di aiutare l'azienda a smettere di perdere miliardi e miliardi di euro quindi secondo me in Italia lo Stato ha delle partecipazioni dove non dovrebbe averle e non le ha dove dovrebbe averle e adesso parliamo del tema caldo del momento ovvero l'attivo di acquisizione da parte di una società di gestione che ha dei fondi di private equity su quelle che sono sostanzialmente delle infrastrutture importanti addirittura in certi casi per Sparkle parla di un vero e proprio monopolio come abbiamo detto poco fa a inizio video il cambio degli azionisti cambieranno molto gli obiettivi cambieranno molto i rapporti tra i vari stakeholders il private equity americano cosa vuole? se compra a 12 miliardi vuole fare un exit per 20 miliardi o per 24 quindi sta cercando un ritorno sull'investimento dal 66 al 100% se lo fa in 7 anni può andare da un 7% a un 10% annuo se ci mette 4 anni fa dal 13,5% al 19% che sono dei buoni risultati per il private equity quindi il fulcro di questo discorso qual è? ci sono due problemi da 12 miliardi devono arrivare almeno a 20 o a 24 se parti da 16 come ho sentito dire vorrebbero gli azionisti di minoranza non arrivi ai rendimenti del 66% del 100% del 7% annuo che è basso molto basso per essere private equity quindi il deal salta il deal non si fa perché il fondo di KKR non genererebbe un rendimento soddisfacente non avrebbe interesse a prendere dei soldi e a investirli a questo tasso di rendimento quindi quanto pagano è la prima questione il primo problema non possono pagare più di 12 magari possono spingersi a 13 13,5% da 0,5% gli offri 0,55% ma comunque gli azionisti che ci sono oggi non è che sono contenti chi troppo vuole non la stringe e qui secondo me si arriva alla questione più importante più complicata come crei questi 8-12 miliardi in 4-7 anni qui bisognerebbe fare un discount cash flow il video verrebbe un po' pesante quindi lo rimandiamo più avanti se faccio 75 like in brevissimo dovrebbero aumentare i flussi di cassa si può fare aumentando l'utile puoi aumentare l'utile facendo più ricavi ma puoi fare più ricavi aumentando i prezzi e questo secondo me è un problema che in molti hanno trascurato se team passa agli americani gli americani aumentano i prezzi per i clienti team per guadagnare più soldi per avere i flussi di cassa più elevati per creare questi 8-12 miliardi di valore e per avere un rendimento per il loro fondo e da qui tra gli stakeholders ci guadagna la proprietà ci perde la clientela altro modo per fare più utile è quello di fare meno investimenti quindi riducono il capex riducono gli ammortamenti e abbiamo un'ulteriore perdita per la comunità perché le infrastrutture non sono all'avanguardia c'è una tensione al miglioramento all'erogazione di un servizio di alto livello e poi ci saranno immancabili tagli al personale quindi i lavoratori verranno penalizzati oppure verrà chiesto di fare orari più lunghi per avere una produzione più elevata e anche qui si parla di un danno ai lavoratori a vantaggio degli azionisti tutte queste operazioni si tramutano in numeri che poi vanno a finire in un discount cash flow quindi da questo discount cash flow abbiamo un tasso interno di rendimento di un valore attuale netto che ci dicono esattamente in che modo questo fondo riuscirà a creare questi 8 o 12 miliardi di valore loro prima di fare l'investimento sanno già quanto andranno a guadagnare e quando il popolino dice ah ma stiamo svendendo un pezzo d'Italia stiamo svendendo un'azienda non capiscono che più il prezzo è alto più loro comunque persone che lavorano lì persone che conoscono persone che sono clienti di telecom andranno a pagare negli anni futuri quindi attenzione a questa miopia se avete delle azioni telecom è un conto dire la stiamo svendendo a 0,50 ma se non siete azionisti fate due chiacchiere al bar secondo me il tifo che dovreste fare è quello che questo deal non avvenga o che avvenga a prezzi molto contenuti soprattutto se siete dei clienti telecom spero di aver fatto chiarezza di aver stimolato la vostra curiosità lasciate un bel like se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale grazie a tutti per essere arrivati fin qui un caro saluto ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti